Musica Onorevole Gentile, le istituzioni sempre vicine alle manifestazioni culturali di eccellenza della Carabinia? Assolutamente sì, è una manifestazione questa del Carnevale di Castrovillari ormai tra le più importanti d'Italia è menzionata dal Touring Club italiano, quindi noi come regione abbiamo voluto esserci abbiamo voluto sostenere questa manifestazione che è una delle manifestazioni tra l'altro i carnevali più antichi d'Italia quindi un carnevale di tradizione che poi coniuga anche la modernità quindi è un clima bellissimo, festoso che diventa tra le altre cose un grande attrattore per la nostra regione Grazie Grazie Grazie